Dobbiamo tradurre in realtà le ipotesi di cui si è parlato per tanti anni, per troppi anni. Ed è proprio da una di queste suggestioni che voglio partire. Voglio davvero realizzare il sogno di una grande città metropolitana Veneta. Una realtà unica in cui sia possibile vivere a Padova, ma lavorare a Verona, perché ogni mezz'ora passa puntuale un treno che mi porta al lavoro. Una grande città che mette in rete le sue università, che mette in rete le sue fiere, evitando doppioni a 50 chilometri di distanza. Una metropoli, una grande metropoli che sappia valorizzare le sue straordinarie risorse culturali, turistiche, perché è l'unica regione del mondo che può offrire contemporaneamente Venezia, le Dolomiti, il Lago di Garda, le ville palladiane, i centri storici meravigliosi, le campagne bellissime. Questa è la nostra terra, questo è il nostro Veneto. Il nostro Veneto.